Mentre la Procura e la Polizia indagano contro i gnoti sul Veglione all'Hotel Cristallo a Fonte Cerreto, interrotto dalle forze dell'ordine a causa del sovraffollamento e del caos che si è scatenato nel dopo-cena, il Centro Turistico del Gran Sasso ribadisce il rispetto di tutte le procedure previste dalla legge per l'organizzazione dell'evento per quanto riguarda gli aspetti di sua competenza. L'amministratore unico del Centro Turistico, Dino Pignatelli, ribadisce che non c'è alcuna volontà, almeno sinora, a intervenire legalmente nei confronti degli organizzatori dell'evento. Non siamo intenzionati a chiedere per ora danni d'immagine, spiega, per non mettere in sostanza il dito nella piaga su un capodanno che è stato un flop su tutti i fronti per la città, considerando anche come è andata a finire con la festa organizzata dall'assessorato alla cultura al Parco del Castello. Pignatelli ribadisce che il contratto di locazione firmato con la società organizzatrice parla chiaro. Gli unici locali messi a disposizione dell'intero complesso immobiliare sono quelli effettivamente agibili, sala, bar e ristoro, e non la parte dell'albergo che è invece chiuso in agibile per restauro. Che c'erano poi tre uscite di sicurezza, una sulla sala e due con scale esterne, previste inoltre una capienza massima di 350 persone. Ben al di sotto di quelle 1200 che invece sembrerebbero emergere dalle dichiarazioni di alcuni utenti che biglietto alla mano hanno chiamato le forze dell'ordine una volta rimasti fuori dal veglione. Il centro turistico garantisce che il contratto era stato sottoposto per quella serata alla Commissione Comunale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, composta anche dalle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. I locali affittati per la manifestazione, spiega Pignatelli, sono perfettamente conformi alle più recenti disposizioni di sicurezza. In base a quanto si legge nel contratto, ad esempio, la durata di locazione è stabilita in tre giorni dal 30 dicembre al 1 gennaio e l'immobile deve essere destinato esclusivamente a uso di manifestazioni a carattere musicale e culturale nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti in materia di pubblico spettacolo e, sottolineato in eretto, con specifico riferimento al numero di persone presenti nella sala, non dovrà superare i limiti previsti ribaditi da Pignatelli in un numero massimo di 350 persone.